Ciao a tutti da Rosi, ospite della nostra vetrina la concessionaria Opel Bonaventi e accanto a me Marco Bonaventi. Ciao a tutti, ciao Rosi, benvenuti nella nostra sede di Rovato, noi siamo concessionari Opel dal 1970, ormai ci conoscete, e sapete che potete trovarci non solo a Rovato ma anche nella nostra sede storica di Manervio e anche ad Orzi Nuovi. E vi invitiamo a venire a provare le nostre autovetture presto le nostre sedi. E allora Marco, visto che invitiamo sempre tutti a provare la vettura, lo facciamo anche noi? Proviamo la nuova Opel Corsa Elettrica, così almeno provi l'emozione di una vera Full Electric. Perfetto, andiamo, seguiteci. Questo è il cavo di fornitura domestica, quello fornito insieme alla macchina, è quello che sottrae un kilowatt e otto dalla corrente di casa, quello per qualsiasi evenienza puoi ricaricare la tua vettura da casa. Siamo pronti? Eccoci, pronti a partire. Bene, poi possiamo, guarda, puoi anche togliere la mascherina se vuoi Marco, perché io come vedi sono qua a distanza. No, va bene, la mantengo, figuriamoci. Perfetto, perfetto. Allora, la macchina è già avviata, è sufficiente schiacciare il bottoncino qua, la mettiamo in P e per comodità vi metto il simulatore con il flusso energetico. Così vedete quando consuma e quanto recupera di energia, perché la macchina in fase di decelerazione o in frenata recupera energia riaccumulando e riproponendosi in batteria. Ah, bene, un sistema comodo ecco, per ricaricare. È una classica vettura a cambio automatico, dove però il cambio automatico non c'è più, c'è solo la marcia avanti e la marcia indietro. La partenza è scattante, quasi fulmine, oserei dire. Sì, non noto differenze, voglio dire, rispetto a una normale vettura. Beh, rispetto a una normale vettura non abbiamo il senso della cambiata, qui non c'è il cambio. Va tutto in velocità costante. Dopo possiamo selezionare il tipo di guida in cui vogliamo proporci, perché adesso ho decelerato appena appena, sta già recuperando energia. Possiamo cambiare lo stile di guida, andare in modalità sport, normale, che è quella che stavamo facendo adesso, oppure anche economica. In pratica la macchina, come se avesse tre potenze. Normale sono 100 cavalli, sport sono 136, economica sono circa un'ottantina. Ecco, stacca e riattacca il climatizzatore per economizzare. La macchina si guida come una macchina normale, l'impostazione delle curve, la tenuta di strada è identica. Opera ha sviluppato un prodotto su una piattaforma completamente nuova, dove il bilanciamento dei pesi con le batterie non andasse ad influire sullo stile di guida. Il bello è che non senti più niente, si sente un pochettino il rotolio dei pneumatici, ma quando accendi la radio non si sente più niente. Niente, è vero, è una sensazione veramente bella, anche per me che sono solo qui senza guidarla, per cui vi invito naturalmente a provarla su strada, quindi telefonate, prendete un appuntamento perché ne vale assolutamente la pena. Indubbiamente. Adesso decelero, freno e lei recupera energia. Quindi guidando tranquillamente in città o anche non in città con la frenata, appunto la decelerazione, voi recuperate energia e quindi questo vi permette di avere... Allunghiamo la durata della batteria. Della batteria. Normalmente la durata della batteria su una corsa come questa è oltre i 330 chilometri di autonomia, dopo vabbè dipende molto dallo stile di guida, dal tipo di percorrenza che un cliente fa e così via. C'è molti clienti che fanno anche quasi 400 chilometri, anche se il consiglio è tutte le volte che hai possibilità o a casa o alle colonnine di ricaricarla, soprattutto se si è fatto magari un abbonamento flat, dove puoi ricaricarla tutte le volte che vuoi, perché non vale la pena andare a rischiare di rimanere a piedi. Certo, assolutamente sì. Quindi facilmente potrete utilizzare la vostra Opel Corsa. Per la ricarica occorre qualcosa in particolare? Allora, per la ricarica, come avete visto prima, la macchina viene fornita con un cavo di ricarica domestica, che sottrae un kilowatt e otto alla corrente domestica e puoi attaccarla alla classica presa asciucco. Quindi puoi attaccarla sempre, tutta notte, tranquillamente. Se si vuole, in dotazione si può avere come aggiunta anche il cavo per la ricarica dalle colonnine, che direi che è fondamentale, perché lì la ricarica è più veloce, più rapida. Certo, ormai si trovano un po' dappertutto, anche nei supermercati magari vai a fare la spesa e nel frattempo ricarichi. Oppure ci sono anche le ricariche, quelle fast, le fast change, quelle hanno loro già il cavo in dotazione, quello più grosso, che questo può essere fatto anche con quello, e quelle sono rapidissime. In mezz'ora ricarichi più dell'80% dell'autonomia della macchina. Insomma, scegliete Opel Corsa per viaggiare risparmiando con questa modalità in pieno silenzio e rispettando l'ecosistema, l'ecologia. E senza dimenticare che su una macchina come questa ci sono tanti, tanti contributi di incentivo statale. Certo. Sono veramente tanti, sia che si disponga di una macchina da rottamare che no. Perfetto, quindi venite qui a chiedere ulteriori informazioni. Vi aspettiamo. Ma vi assicuro che sono veramente tanti gli incentivi. Ed ora proviamo il nuovo Opel Grandland X Hybrid Plug-in, in questa versione 4x4, quindi da 300 cavalli. trazione 4x4 perché abbiamo due motori elettrici che poi vi spiegherò durante la prova. Ora togliamo la ricarica. Proviamo la vettura. Eccoci qua. La vettura chiaramente si accende in versione elettrica come riporta il nostro display che abbiamo attivo qua di fronte. Come vedete abbiamo attualmente, sono 50 km totali di possibili ricariche, ne abbiamo attualmente 42. In questo momento la vettura sta andando in modalità completamente elettrica. Quindi la particolarità di questa versione è che non soltanto abbiamo la trazione elettrica, ma anche, quando noi lo desideriamo, la funzione ibrida. In questo momento noi possiamo, tramite questo tasto a fianco del cambio, selezionare quattro funzioni. La funzione elettrica, in cui siamo attualmente, oppure la funzione ibrida, dove noi possiamo intervenire sia il motore benzina, che è un 1.6 turbo da 200 cavalli, sia la parte elettrica. Ogni volta che noi rilasciamo l'acceleratore o addirittura freniamo, la batteria, logicamente, si ricarica autonomamente. Abbiamo la possibilità anche di poter sfruttare sia la funzione sport, quindi tutti i 300 i nostri cavalli, quindi sia il motore termico da 200 cavalli, che i due motori, uno anteriore e uno posteriore, elettrici da 50 cavalli, oppure l'ultima soluzione che c'è a disposizione su questa versione 4x4 è appunto la posizione sul nostro settaggio della funzione 4x4 per il possibile utilizzo di tutte e quattro le ruote motrici per chi utilizza questa vettura anche in montagna o in situazioni di poca aderenza. Su questa vettura abbiamo già di serie i comandi al volante per il cambio e parte da un allestimento comunque già decisamente completo, quindi abbiamo già il nostro navigatore con lo schermo maggiorato, l'aria condizionata automatica, la cloche è specifica per la versione ibrida, dove noi abbiamo sempre le funzioni classiche del cambio automatico. Ora rientriamo in sede. Vi farò vedere anche come è molto semplice poi la ricarica della vettura in elettrico. Questa vettura con la nostra colonnina in un'ora e trenta ricarica tutti e 50 i chilometri di autonomia che abbiamo a disposizione. Con il nostro cavo di ricarica veloce ricolleghiamo la vettura che autonomamente ripartirà, la chiudiamo e in pochi minuti avremo la nostra carica completa. L'Opel Grandan che abbiamo appena provato è una nostra vettura aziendale che abbiamo a disposizione a 38.000 euro comprensivo di passaggio e bollo. Qua invece in salone abbiamo la versione a trazione anteriore, quindi a differenza appunto di quella che abbiamo appena provato abbiamo sempre il motore termico 1.6 turbo e il motore elettrico invece che essere sia anteriore che posteriore è esclusivamente nella trazione anteriore e chiaramente ha un costo di destino di 4-5.000 euro inferiore. Sempre per quanto riguarda la versione elettrica c'è una grossissima novità che è il nuovo Opel Mokka che andremo a presentare tra gennaio e febbraio del prossimo anno. Sfrutta la stessa tecnologia della nostra Opel Corsa elettrica, quindi quella che avete visto nella prova precedentemente, quindi un motore che ha una potenza purificata a 136 cavalli, totalmente elettrico, che sfrutta anche quello gli incentivi statali, oltre che tutta la scontistica che ha a disposizione Opel. Quindi si può riuscire ad arrivare ad un prezzo di Opel Mokka elettrico scontato di 12.000 euro. È già ordinabile, noi le abbiamo già ordinate diverse unità che arriveranno comunque a breve e la presentazione sarà appunto l'inizio dell'anno. Ci saranno tre allestimenti, ci sarà sempre un allestimento Edition per la versione standard o i più esclusivi Elegance, Jazzline o Ultimate, come poi potete trovare ormai anche su tutti i siti e sul sito anche di Opel con la possibilità anche di una configurazione, oltre che chiaramente venire qua in concessionaria e vedere insieme il nostro nuovo Opel Mokka. Eccoci, vi propongo questo mese la nuova Opel Astra. Su tutte le Astra in pronta consegna c'è un eccezionale sconto del 27% e in più il 50% su tutti gli accessori. L'Opel Astra è disponibile nelle motorizzazioni 1.5 diesel, cambio manuale e cambio automatico e con le motorizzazioni benzina, approfittate della nostra Station Wagon tra le più capienti del mercato e tra le più accessoriate della gamma intera. Ed ora ecco i nostri veicoli commerciali. La gamma dei veicoli commerciali Opel che ci propone l'Opel Vivaro, il nostro veicolo di classe media, disponibile in tre lunghezze da 2,16 m, 2,58 m e 2,80 m. Qui potete vedere quello da 2,50 m, disponibile con le motorizzazioni 1.500, 100, 120 m oppure i 2.000 da 120 m o 150 cv, comportata da 10 a 14 quintali. Il veicolo speciale e indicatissimo per tutti gli artigiani. Qua più al nostro fianco c'è l'Opel Combo, veicolo più compatto e poi ancora il Movano, veicolo di più grande dimensione con lunghezza oltre i 4 metri e anche telaio, possibile allestirlo, centine, cassone ribaltabili, tutto quello che serve per le vostre attività. Non avete a chi da chiedere, avremo modo di allestirlo in base alle vostre esigenze. Inoltre su tutta la gamma dei veicoli commerciali Opel, disponibilità di veicoli in pronta consegna che vi possono permettere di immatricolare entro la fine dell'anno, quindi dà la possibilità di scaricare entro il 31-12 e su tutti i veicoli in pronta consegna c'è un extra sconto oltre alla campagna rottamazione che vi permette quindi di avere un extra sconto per valutare il vostro usato o il veicolo da rottamare e arriviamo a uno sconto fino al 40%, ripeto 40%. Ecco a voi adesso una breve carrellata delle nostre autovetture aziendali ai chilometri zero. Qui una Opel Mokka 1.5-102 CV allestimento Innovation del 2019. Una Mokka 1.6-136 CV allestimento Innovation. Qui ancora il nostro multispazio, l'Opel Combo Life. Anche questo diesel oppure disponibile anche benzina per gli amanti dello spazio, dello sport e del tempo libero. Questa invece è una Grandland allestimento Innovation 1.2-130 CV cambio manuale. Tra le nostre vetture aziendali disponibili anche motorizzazioni 1.5 diesel oppure hybrid plug-in. Potete trovare tutte le nostre vetture aziendali e le nostre offerte chilometri zero sul nostro sito www.bonaventi.it Bene Marco, siamo arrivati proprio alla fine di questa puntata. Anche oggi si conclude la visita della Rosi presso la nostra concessionaria di Rovato. Saluto a tutti e alla prossima occasione e rinnovo l'invito a venirci a trovare e a visitare le nostre sedi storiche di Manervi o d'Orzi Nuovi e la nostra sede nuova di Rovato in cui ci troviamo. Ciao Rosi e un saluto a tutti. Grazie a te Marco e ciao a tutti. Grazie a tutti.